Sono un lavoratore dell'ex videocon di Anagni, anzi videocolor per l'esattezza perché la continuo a chiamare ancora videocolor e siamo in attesa del TFR rimasto in azienda. Stiamo in una situazione disperata perché la mobilità a fine giugno diminuisce e questi soldi stanno fermi e noi non riusciamo più ad andare avanti. È una situazione bruttissima, speriamo che le autorità e Sua Eccellenza, il Signor Prefetto, riescano a smuovere questa brutta situazione anche perché oltre a me ci sono altre 1150 famiglie che si trovano in questa situazione. Sono qui anche a dare un sostegno ai lavoratori della Marangoni che pure loro si trovano in una situazione disperata e speriamo che si trovi una soluzione anche per loro. Grazie.